Oggi al mio panel dedicato al mercato di lavoro giovani e sostenibilità vi racconto di come la mia azienda ha voluto diffondere i temi relativi alla sostenibilità e una maggior consapevolezza in merito tramite un progetto speciale, l'Alpha Sigma Millennial Advisory Board o anche detto AMAB. AMAB infatti è un comitato che è nato all'incirca due anni e mezzo fa tramite la sponsorship del nostro Dipartimento Corporate Communication e Corporate HR che è un comitato consultivo costituito dai più giovani in azienda, i millennial appunto. Il comitato ha uno scopo di engagement proprio dei più giovani all'interno del quale vengono affrontate tematiche come appunto la sostenibilità, l'innovazione e diciamo l'idea è un po' quella che i giovani stessi apportino il proprio contributo nel proporre nuove idee, nuovi progetti in questi temi piuttosto che fornire il proprio punto di vista, le proprie opinioni relativamente a dei progetti o delle tematiche già in atto in corso all'interno dell'azienda in maniera tale che in questo modo si sentano coinvolti attivamente nella strategia aziendale. AMAB oggi ha affrontato già dei tavoli di lavoro dedicati alla sostenibilità dove ad esempio si è discusso di qual è il punto di partenza dell'azienda in merito a queste tematiche dato anche che i millennial hanno un punto di vista spesso diverso e più sensibile dedicato appunto ai valori di sostenibilità. Si è fatto un punto della situazione e si è un po' cercato di capire in questo tavolo di lavoro quali sono i desiderati per costruire dei progetti verso il futuro e AMAB proprio da qui è partita avviando alcune progettualità al suo interno, quali ad esempio attualmente in fase di organizzazione la proposta di una giornata di volontariato aziendale.